Io sono Noemi Brazzoli e questi sono i tre miei segreti. Allora il primo è che da piccola avevo un amico immaginario che veniva chiamato Sfigatto e infatti gli avevo da mangiare, lo accudivo, fino a che ho capito che la gente mi guardava male e pensava che fossi matta, quindi ho smesso. Poi il secondo è che ho origini francesi perché infatti mio papà è italo-francese perché mia nonna veniva da Parigi. Il terzo è che quando divento ansiosa o comunque ho le emozioni al mille divento logo eroica, cioè non smetto di parlare.